Ciao a tutti! Oggi prepareremo la farina di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo messo in congelatore per due ore le mandorle. Mettere nel boccale le mandorle ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola ed azionare nuovamente il bimbi per 3 secondi a velocità 10. La farina di mandorle è pronta. Farina di mandorle si conserva in dispensa in barattoli di vetro con chiusura ermetica per un mese. Ideale per realizzare torte, biscotti e crostate. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!